eccolo ma tutti e due tutti e due come state e come state miei piccoli come state tesori e state bene state bene sapete che viene ancora più caldo luci viene ancora più caldo luci ma guarda che colori freddi che fa sto telefono luci sei pronto per l'altra ondata di caldo la mamma forse va via lo sai e mosi mosi ha avuto la sua pettinatina dal nonno dove vai mosè o patato patato vieni a casa dopo che facciamo una cosina con la musica che la mamma ha visto un videino una challenge con gli altri gattini che tu sei il più bello di tutti vieni a casa che proviamo è sì salutiamo tutti mosè cosa fai vieni a casa con me allora il fame mosè hai voglia di pappa di pappa imboccata dalla mamma chiudiamo qua hai voglia di pappa mosè vero di pappa umida perché i crocchini li so mangiare anche da solo ma l'umido mi deve imboccare la mia mamma e con questo vi saluto ciao a tutti